Presidente siamo alla vigilia dell'inizio del campionato, allora che campionato sarà questo campionato italiano 2011 e che campionato sarà per i Pirati? Per i Pirati sarà un, penso, un campionato d'alto livello. I giocatori che abbiamo scelto, la squadra che abbiamo formato, io penso che sia una delle migliori che abbiamo mai fatto. E il campionato, se noi avremo dei buoni risultati, vuol dire che il campionato andrà bene. Quest'anno ha puntato sugli americani anche il tecnico americano? Tutto, giocatori americani e tecnico americano. Abbiamo voluto cambiare tutto, abbiamo cambiato, invece di andare nei dominicani e nei venezuelani siamo andati negli americani. Giocatori di alto livello, con un allenatore di altissimo livello, con un'esperienza quarantennale nelle lighe americane. Il suo ordine d'arrivo ideale per il campionato? A me mi interessa fare soprattutto la finale, poi dopo la palla è rotonda, però è importante fare la finale. Se la vinciamo, quanto meglio. Si è parlato molto in questi ultimi mesi, relativamente anche a calcio a basket, e se a un certo punto Rino Zangri si dovesse stancare di portare avanti il discorso baseball a Rimini? Dal basket? No. Sono un baseballista, io sono del baseball, se esco dal baseball vuol dire che vado in pensione. E che fine farebbe il baseball a Rimini secondo lei? Non c'è problema, non c'è problema. C'è altra gente che può prendere il mio posto, c'è altra gente che può portare avanti il beto. Con gli stessi risultati forse anche meglio. Grazie. 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 Grazie.